benvenuti in questo nuovo video dei massimi esperti sarà un video si approfondimento ma anche un po teorico perché faremo anche qualche piccola illazione oggi andremo a parlare di sabo molto importante anche per chi segue l'anime oltre che legge del manga scoprire qual è la taglia di sabo che il capo di stato maggiore dell'armata rivoluzionaria ha una taglia non molto alta rispetto a quelle che stiamo vedendo oramai di questi periodi infatti la sua taglia di 602 milioni di berri importante questa taglia fu svelata nel volume 3 del magazine di one piece giustamente la taglia non è molto alta se facciamo il confronto per esempio con i vari comandanti degli imperatori no pensiamo cracker smoothie katakuri fenomenale ma anche jack queen king no hanno tutti quante taglie molto alte però però c'è un però c'è stato spiegato a più riprese che le taglie sono anche come rappresentazione di pericolosità sì ma di cosa stragini civili e ferratezze problemi causati alla collettività sabo invece essendo un rivoluzionario da sì problemi a quello che è il governo mondiale ma sicuramente non li dà ai civili che anzi come abbiamo più visto come abbiamo visto più più volte a più riprese più dimostrazioni cosa fanno i rivoluzionari aiutano i civili no quello che fa un po' rufi però loro lo fanno mettendosi proprio contro il governo nel senso che potremmo dire che i rivoluzionari sono l'antitesi del governo mondiale in questo senso qua a livello proprio ufficiale l'ufi invece tra virgolette lo fa come posso dirvi involontariamente l'ufi salva salva oggettivamente porta anche in parte un po' di distruzione ma è una distruzione a fini pacifici nel senso che una volta che lui l'ha portato lo fa perché poi ci sarà un nuovo inizio per i popoli invece i rivoluzionari sono proprio dichiarati come nemici no e poi abbiamo avuto tra virgolette la fattispecie speciale lì a Leverino dove c'è stata questa dichiarazione di guerra ai draghi celesti eccetera eccetera però prima di andare avanti vi svelo anche le taglie degli altri rivoluzionari in modo tale che poi ci addentriamo un attimino negli spoiler tra virgolette teorici che vi farò innanzitutto hanno tutte quante taglie mediamente eh di decrete Belobetti quattrocentocinquantasette milioni Carasu quattrocento milioni Lindbergh trecentesedici milioni Morley duecentonovantatré milioni quindi diciamo che questi quattro eh capito della armata rivoluzionaria hanno tutte e quattro delle taglie che oscillano fra i duecentonovanta quindi trecento e quattrocento eh milioni quindi capiamo eh che comunque le taglie non sono proprio eh altissime per quanto concerne l'evoluzionario anche se noi ci ricordiamo e sappiamo bene che Dragon è il ricercato numero uno dal governo mondiale questo può significare tante cose sia potrebbe avere la taglia più alta di tutti però in generale perché la taglia nella pirateria le conosciamo le più alte sono quelle di Roger e di Newgate dei quattro imperatori magari essendo lui tra virgolette un po' rilegge ma non un pirata del più rivoluzionario potrebbe anche avere una taglia elevatissima non essendo nella stessa categoria no? Poi magari non è così lo scopriremo solo leggendo il manga o per chi guarda l'anime guardando l'anime. Comunque ritornando a Sabo Sabo è comunque eh molto importante secondo me nella trama perché lui in qualche modo ha portato avanti anche quella che è la volontà di Ace prendendo eh ingerendo tra virgolette il mera meno no? E questo è il punto uno focale su cui dobbiamo andare un attimo a metterci d'accordo perché con l'attacco che è stato eh fatto eh abbiamo visto Sabo e alcuni capi dell'armata rivoluzionaria sfidare due ammirati no? Fuggitora e Toro Verde. Questo perché? Perché c'era questa missione che Sabo ha voluto per forza di recuperare il povero orso no? Non so Bartolo non sarà mai diventato un automa un vero e proprio cyber robot vedremo se potrà mai tornare quello che era un tempo non lo sappiamo ancora però speriamo che si possa fare qualcosa di meglio piuttosto che vederlo come uno schiavo di quei bugiardi dei draghi celesti. Da quello scontro eh sembra essere successo un qualcosa sembra eh che Sabo sia finito in un guaio sembra che sia stato incolpato almeno illazionando di un qualcosa infatti abbiamo visto che c'è stato un problema anche con alla basta no? Con recobra eh qualche problema probabilmente anche con vivi e e quindi bisogna un attimino capire eh cosa rimetto anche questa altra cuffietta altrimenti eh se mi sentite meglio nell'ascolto di questo video quindi bisogna capire cosa è potuto succedere la nostra relazione noi speriamo che lui sia riuscito a recuperare orso e sia riuscito a scappare naturalmente magari è stato accusato dal governo di un qualcosa che in realtà è stato il governo stesso a commettere e questo già sarebbe molto interessante perché poi i giornali possono riportare quello che viene detto no? E non sempre è verità e quindi abbiamo visto a più volte no? Ma è importante che sia una notizia succulenta una notizia che faccia parlare. Per quanto concerne quindi questa fattispecie speriamo di rivederlo molto presto speriamo che sia riuscito a scappare magari perché no? Con loro con i rivoluzionari e orso magari c'è anche lei, Jewel Bonny no? Magari è scappata anche lei abbiamo visto che c'era un collegamento con Ace, un collegamento con orso ci sono tanti collegamenti molto importanti che ho da dovrò andare a sviscerare poi nel tempo dopo Uano comunque tornando a Sabo secondo noi il livello di perché già lo so che molti chiederanno di balteboarding e quindi cerco di accontentarvi il livello di Sabo secondo me è abbastanza alto Sabo prima di ingerire Mera Mera io già lo inserivo su un livello di un comandante vi chiedete quale? Sicuramente sul livello di un primo comandante perché ci ha dimostrato di essere molto forte contro Burgess ma anche stesso nella corrida lì a Dressrosa ci ha dimostrato di utilizzare una ghia dell'armatura elevatissima probabilmente lo stesso che Rufi ha preso grazie a Yogoro no? Perché lui parla del respiro parla del fatto che tutti gli elementi abbiano un cuore infatti quando lui usa la sua tecnica dell'artiglio del drago eccetera riesce a infondere praticamente quello che io penso fosse l'achi dell'armatura all'interno del pavimento distruggendolo completamente. Vabbè fa fare bruttissima figura a Burgess e questo è sotto gli occhi di tutti poi ingerendo il Mera Mera secondo me ha fatto un salto in alto ancora di più quindi potremmo metterlo eh sul livello secondo il mio punto di vista una via di mezzo una via di mezzo fra un primo comandante e un ammiraglio ok più forte di poco di un primo comandante un poco poco sotto un ammiraglio poi naturalmente migliorerà perché giovane eh avrà più dimestichezza col frutto magari potrebbe ottenere risveglio allenandosi perché comunque lo vediamo Sabo è fortissimo e quindi ha grandi capacità e diventare sempre più forte. Sarebbe un sogno no? Vedere magari quando ci sarà la sfida al governo mondiale anziché vedere Rufi contro Kainu vedere Sabo contro Kainu alla fine a seconda Sakazuki no? Per i più dotti. Quindi eh lui è molto intelligente e una cosa che già abbiamo detto più volte nei video e nelle live ne abbiamo parlato quindi comunque eh quanto tempo fa l'abbiamo fatto video ma penso circa due anni fa. Vi dico una bugia. E poi vi ricordo quella piccola scaramuccia veloce con Fuggitora. Ragazzi è vero che eravamo a Dressrosa e ora siamo a Uano però Fuggitora ha preso alla sopravvista Zoro e praticamente lo atterrò. Poi Zoro ha usato l'attacco e si è liberato il nostro grandissimo guerriero. Riuscì a buttare un attimo anche a terra Rufi che poi lo sapete come fa Rufi in genere del combattimento quindi si alzò per una certa velocità. Ma Sabo è stato l'unico di quelli che noi abbiamo visto a resistere a quel momento eh di gravità eccessiva probabilmente e appunto e poi contrattaccare quello che era un ammiraglio della Marina. Detto questo abbiamo svelato la taglia di Sabo. Abbiamo svelato la taglia di rivoluzione. Svelato io. Il magazine volume tre e i vari data book eh di One Piece. Non è che le ho svelate. Io ve li sto raccontando solamente. Diciamo questo è un video a richiesta che mi è stato fatto quindi l'ho fatto perché mi hanno fatto le richieste anche dai sub eccetera io cerco di accontentare. Cerco di fare anche quello su Ace. Quindi se volete voi che ci stanno ascoltando soprattutto alcuni eh diciamo amici se ci volete copiare eh o anticipare fate un video su Ace anche voi provateci poi dopo lo faccio io dopo di voi. Iscrivetevi alle nostre due pagine Facebook dove trattiamo One Piece e gli altri manga anime. C'è il nostro gruppo Facebook magico sempre di più ne siete. Instagram fondamentale. Telegram così avete ogni volta tutti i link in maniera diretta in modo tale che se le notifiche non vi arrivano lì ci sono per forza i link dei video o delle live. Venite anche su Twitch. Iscrivetevi qui se ci state seguendo per la prima volta. Attivate la campanella. Eh entrate nelle playlist. Fate video teoria. Fate video intervista. Fate Hopi Stories. Fate live evento. Fate live con ospiti. Fate live aperte. Tutto. Tutto. Tutte le playlist perché così ci conoscete no? Che se no dite la prima volta che mi vedete cosa fa questo eh sta parlando così di una cosa che tutti sappiamo è no. Qui c'è solo la verità. Massimo effetto di One Piece in Italia. Dicono che che Sabo probabilmente eh apparirà molto presto. Io lo spero. Bisogna eh trovare informazioni. Oda ci disse che doveva vedere Shanks doveva vedere Sabo doveva vedere Boa. Cosa era successa la flotta di Rufi. Dobbiamo vedere Vega. Un sacco di cose dobbiamo vedere. Però l'importante è questo. Quindi tutti i nostri social. Noi vi aspettiamo. Spero di non aver dimenticato nessun social. Ah un ringraziamento a tutti voi che ci supportate sempre. Un ringraziamento a tutti i miei sub molto importanti sia qui che su Twitch. Abbiamo un grandissimo gruppo Telegram. Se vi subate entrate dentro. Gruppo Telegram privato. E non lo so. Cosa vi devo dire più? Un saluto da me, da Kataguchi e da Brooke. Anzi no. Pure dalla Fenice. Ma grazie. Fatemi sapere sempre voi cosa pensate qui nei commenti con l'hashtag. Con l'hashtag. Hashtag Sabo. Va bene così. Anzi no. Sabo Meramera. Sabo Meramera. È più bello. Ciao ciao ragazzi. Fatemi sapere qui nei commenti.